Allora qui stiamo al terzo sopralluogo della giornata però da quello che potremmo vedere non è che sia veramente il massimo perché vedendo date fuori a parte che è stato messo in sicurezza anche perché giustamente ci hanno messo edificio pericolante perché vabbè se vede pure se uno entra certo ovviamente a rischio pericolo nel senso però di notte dopo è più pericoloso perché anche con le pile tutto quanto però sai quando cominciamo a stare tutti quanti lì dentro capito uno che fa un passo sbagliato qualcosa adesso per poi vedo solo l'inizio qui perché dopo non so dentro come sarà i pavimenti esatto però qui vedi giustamente l'hanno è messo in un modo che dice almeno per chi arriva qui davanti come noi non è non è invitato ad entrare perché tanto per tutto chiuso il cuscino può essere anche rischioso che viene giù qualche cosa anche perché poi c'è pure da dire che la casa abbastanza piccoletta non è mai come quelle che abbiamo fatto sui primi due sopralluoghi che è tutta un'altra musica esatto qui è da valuta perché per adesso è più no che si è più no che si poi valuteremo meglio comunque con questo sopralluoghi abbastanza diciamo ristretto perché tanto da sta per quello la chi c'è paga per rischiare nessuno vedo la che c'è i coppi tutti spostati ma qualco anche se inquadri la c'è con le scale si è tutto sdiraniate se vede il sotto se vede però qui se l'hanno messo in sicurezza sai vuol dire che c'è molto più rischio rispetto alle altre parti no solo per quello perché solitamente vedi anche quelle altre stanno è petrullata non l'hanno messa in sicurezza come questa se ce l'hanno messa purarsi che è venuto giù qualcosa ho capito queste scosse del terremoto che c'è stato ultimamente no questa se vede che è vecchia comunque che è stata messa da un pezzo la rete si perché sai che è tutta rucinita non è da te è da un bel pezzo no comunque dovremmo questo dovremmo decidere perché andare a rischiare per senza niente non vale la pena cosa si dice capito e quindi niente così questo purtroppo potremmo dire che per oggi è finito un soprallogo mordi e fugi questo più che altro zeus si è messo giù si più all'ombra vabbè tempo qua zeus qui c'è la faccia c'è un pezzetto d'erba e quindi niente così se voglio dire che il terzo soprallogo avevo anche se non se può entrare se voglio dire che è concluso un po' dopo ho visto mai che però magari parliamo un attimo qualche persona qui intorno se ci fa bocca se riusciamo a ottenere un permesso magari meglio ancora anzi sempre deve fare le cose un po' così magari però se non si può non si può pazienza qua c'è una casa vicino potremmo pure chiedere di chi è esatto si se qualcuno che ce lo sa che state casa qui da tanto capace che conosce pure proprietario visto mai che ci fa bocca ci vediamo presto per le investigazioni o nuovi sopralloghi se ci sarà perché ovviamente pure quelli ciao a tutti alla prossima